Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi della contabilizzazione dei cantieri. Questa è un'attività che tanti piccoli artigiani trascurano pensando che i cantieri siano tutti redditizi allo stesso modo. In realtà è un'attività che se fatta nel giusto modo ti fa rendere conto bene di quali sono i punti forti dei tuoi lavori o le lacune da dover colmare. Per fare questo io mi sono fatto dei fogli di calcolo in cui ho inserito tutta una serie di parametri che mi servono per valutare la redditività di ogni singolo lavoro e grazie a questo tipo di attività mi sono reso conto dei lavori che hanno una resa migliore e dei lavori sui quali invece devo migliorare per poter avere una redditività ragionevolmente positiva.